Calma, non farli agitare Risalve a tutti Vai bravo e dammi il tempo di tirarci fuori di qui Allora Ci sono stati un altro paio di sparatori E sono riuscito a sopravvivere Scusate sempre se a volte Nell'episodio ci sono le interruzioni brusche Ma la Playstation 4 può registrare solo fino a 15 minuti Quindi Non più di tanto E visto che non ho ancora il PNR O PVR Ora non mi ricordo, è un po' complesso Comunque siamo riusciti ad arrivare dagli ostaggi Ora li dovremmo liberare In teoria potremmo andarcene anche tutti a casa Niente Lo so Dai Adesso Forse Visto che ne abbiamo fatti fuori un botto C'è anche la remota possibilità Che magari Non ci sia nessun altro esaltato A rompere le palle Forse ripeto eh Adesso sta a vedere solo perché l'ho detto Di un mezzo esercito Attenzione Rilevati i nemici Ecco infatti stiamo dicendo Ma perché io non sto zitto Perché Ah si avrò anche sbloccato un paio di armi Ma quel Bel mitrino Che ti danno all'inizio Rimane secondo me Estremamente affidabile Sì ma ho capito Io Provo a fare con l'antisgamo Poi ci siete in piedi Bello tranquillo Oh grazie Perché Non ce la facevo proprio Mi stanno proprio rompendo le palle Quelli esaltati Lì con la mazza Da baseball Infatti Attenzione Nella seconda parte C'era io che scleravo Perché non riuscivo a sorpassare un pezzo Perché mi uccidevano sempre Senti Aghènsta Di due soldi Facciamo un po' che muori Oh vai 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 Stile Pro player time E dai Sbuca fuori Bel bimbo su Affrontami Senti io ti ho detto Spara Però Se te ne pari Pistoletta mia Attenzione Altri nemici in arrivo Meglio che l'indetreggio Perché c'è lo scudo Che sta andando un po' a puttane Eccolo qui E ho capito Ma noi non è che siamo Chissà che organizzazione Poi soprattutto io Che non ho ancora ben capito Come funzionano alcune cose O che tipo mi son depresso Perché non so più le granate Ecco tipo ora le granate Mi sarebbero servite Come non so cosa Perché È un bello spazio ristretto Le ne lanciavi due lì E facevi già fuori La metà di quelli lì Come cazzo ho parlato Controlla i piani superiori Controlliamo i piani superiori Colpo la testa Per te Grazie Come Attenzione nessuna area di rientro Ma di che Ah cosa Che cazzo stai parlando Cosa vuol dire Nessuna zona di rientro Cosa stai dicendo Vabbè Vedere di ricaricare Oh tanto qui ci sono Un po' di munizioncine Ho detto di fare Ok Ok Un po' di munizioni al mitra Che è l'arma che sto usando di più Ho capito Ma un attimo Per ora non ci stanno Almeno aspetta che ne arrivino Un altro mille Attenzione Rilevate ostile Non si vede un pene Dove stanno gli ostili Oh porca puttana Eccoli là gli ostili Ciao bello di papà Sì te mi hai rotto proprio le palle Te e i tuoi cugini di prima E tanto ho ucciso brutalmente Così mi pari Stronzetto Tanto per farti capire Come funzionano le cose Quando ci sto io Un campo da basket Non possiamo metterci a giocare a basket Durante la sparatoria Sì perché non lo sapesse A me piace il basket Che si è messo agli atti E no non lo faccio Perché tipo Fa affetto rapper Ma proprio perché A me globalmente Piace lo sport E adoro il basket Infatti sono fan A canito dell'NBA Ma Chiudendo questa Piccola Ma che cazzo Stai facendo Sono qua Ma sei un coglione Ma svegliati un po' C'è Attenzione Altri nemici in arrivo Un altro Ma porca di quella E vai un altro esaltato Facciamo un po' Che muori Ma allora È possibile che loro C'hanno 200 miliardi e mezzo Di granate Io ne avevo tre E sono pure Già sparite No allora Vai col kit medico Non è male Che c'è ancora Quel kit medico lì Ok Ma Perché ti si impalla Così Ma la madonna Allora senti Ma che è che Gran colpo Ma dove Ok ragazzi Credo che la Liberazione qui Sarà ancora Un po' lunga Quindi Questo credo Lo possa anche Lasciare Solo su youtube Eh sì Solo su youtube Volevo dire Su facebook Tipo Perché tutti Sti video Da 5 minuti Se no Non me li manda mai Quindi Ci si vede più avanti Con la fine Di questa missione Se Dio vuole Che io riesco ad arrivarci Salve a tutti Alla prossima parte